La sovranità monetaria è possibile in Italia? Certamente, auspicabile, possibile e legittima, è l'unica. E ragione di cittadinanza? Assolutamente sì, è l'unica agibile in un momento di crisi economica. Ci spiega che cos'è? È l'emissione monetaria di frazioni di benessere economico collettivo. È giusto. E quanto sarebbe, quanto sbetterebbe ogni italiano circa? Circa 2.000 euro a mese, tutti dagli infanti ai moritori, che è il debito pubblico che viene ridistribuito e il maltotto viene riconsignato ai legittimi proprietari che sono i cittadini italiani. Lei è parte di qualche movimento? Siamo a migliorare, grazie.